Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Cimovido e benvenuto a questa dodicesima puntata del nostro videocorso sulla termodinamica orientata alle macchine e ai sistemi energetici. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di prevalenza, quindi abbiamo visto le pompe e effettivamente che cosa fanno all'interno di un circuito idraulico. Oggi andiamo un pochettino più nel dettaglio della macchina idraulica, quindi della nostra pompa, e andiamo a parlare di un fenomeno che è assolutamente da evitare in quanto va a danneggiare la nostra girante che è la cavitazione. Allora qui come potete vedere vi ho riportato la foto di un rotore pesantemente danneggiato di una turbomacchina idraulica. Ovviamente vabbè ormai sappiamo riconoscerne la geometria, è chiaramente una macchina di tipo centrifugo. Quello che possiamo notare è che la girante presenta dei notevoli segni di usura. Vedete è come se fosse stata erosa e presenta tutta una serie di buchi addirittura, vedete qui ci sono dei buchi della nostra girante, e il metallo è completamente andato, quindi questa girante di qui è assolutamente da buttare, non si può più ripristinare in alcun modo. Che cosa ha causato questi gravissimi danni al rotore? È un fenomeno che si chiama cavitazione e che sostanzialmente consiste nella formazione di bolle, bolle di vapore all'interno del fluido che io sto pompando, a causa di una scorretta regolazione dei parametri operativi della macchina. E adesso andremo a capire di che cosa si tratta un pochettino più nel dettaglio. Prima di partire, diciamo che nelle scorse puntate mi sono dimenticato di presentarvi una nuova grandezza che sarà molto utile all'interno degli esercizi ad esempio legati all'idraulica, che è la pressione totale. La pressione totale si definisce in questo modo, ossia, quindi pitot, quindi pressione totale, è uguale alla pressione statica, che è la pressione che io misurerei ad esempio con un manometro, più una certa componente legata alla velocità del mio fluido, che è ρ v0 quadro fratto 2, ovviamente nel caso in cui io stia misurando in v0. Allora, sperimentalmente, anzi intuitivamente, che cos'è la pressione totale? Allora, è la pressione che avrebbe il mio liquido qualora io lo arrestassi, quindi se io prendo il mio liquido, lo faccio sbattere contro un muro, lo fermo, arrivo a una certa pressione, questa pressione è la pressione totale. Poi, indipendentemente che io lo faccia o meno, un liquido in movimento avrà una certa componente di velocità che, se convertita interamente in pressione statica, ok, quindi io prendo il componente di velocità ρ per v quadro fratto 2, l'arresto, diciamo che il trinomio di Bernoulli si deve mantenere, quindi questa componente di velocità va a incrementare la pressione statica. Questa grandezza la chiamo pressione totale. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che se sono all'interno di un tubo, un tubo tra l'altro ideale, ipotizzo di non avere perdite di carico, ipotizzo di non avere lavoro scambiato, di non avere lavoro di irreversibilità, trascuro, ad esempio, all'interno della mia tubazione, ad esempio ipotizzo che sia orizzontale, trascuro la variazione di quota e si evidenziano i termini legati alla pressione totale, quindi è il binomio pressione P2 men P1 fratto ρ più il binomio legato alla velocità. A questo punto, ovviamente, posso isolarli, posso portare tutti i termini, ad esempio, in uscita a sinistra, tutti i termini in ingresso a destra, ok? E quindi qui arrivo alla legge, tra virgolette, di conservazione della pressione totale. Legge di conservazione della pressione totale solo nell'ipotesi in cui, ovviamente, non ho scambio di lavoro e non ho perdite di attrito, quindi possiamo dire che P2 in un tubo ideale è uguale a costante. Se invece ho scambio di lavoro, chiaramente questo non sarà più vero, perché il lavoro può andare, ad esempio, a incrementare la velocità oppure può andare a incrementare la pressione del mio liquido. Quindi questo era giusto per introdurre questa nuova grandezza chiamata pressione totale. Questo perché? Perché quando andiamo effettivamente a vedere che cosa succede all'interno di un compressore, ad esempio, quindi all'interno di una macchina, di una turbomacchina, che cosa abbiamo? Beh, abbiamo la nostra paletta e alla nostra paletta, come abbiamo già detto diverse volte, che cosa succede? Arriva una certa corrente di fluido, ok? Che qui adesso inizio a fare in giallo. Che cosa succede? Ovviamente la mia corrente incontra la pala, un po' andrà da questa parte, un po' passerà sotto. Tenete conto che il profilo della pala è a tutti gli effetti un profilo aerodinamico, cioè è molto simile, molto parente, dei profili delle ali degli aerei. Quindi non è chiaramente semplicemente una piattina messa lì in qualche modo, è sagomata con determinate accortezze. Benissimo, che cosa fa il fluido quando sbatte contro la mia pala? Quando sostanzialmente viene deflesso dalla mia pala? Allora, c'è una relazione che noi non andiamo a dimostrare, che è questa di qui, che ci dice che, diciamo così, un gradiente, cioè c'è una relazione tra un gradiente di pressione, ok? Cioè avviene sperimentalmente, si vede, poi si può dimostrare anche questa relazione, che io ho un gradiente di pressione, quindi ho una variazione di pressione, qualora io abbia, ad esempio, una variazione del raggio della mia traiettoria. Oppure ovviamente posso anche incrementare la velocità e cambio la pressione, oppure posso variare la densità e cambio la pressione. Chiaramente adesso noi stiamo parlando di liquidi, e quindi siamo nell'ipotesi di ρ costante, quindi questo termine non può influenzare in alcun modo la pressione perché è costante, e quindi io chiaramente per variare la pressione a questo punto che cosa posso fare? Posso o cambiare il raggio di curvatura della mia traiettoria, oppure ovviamente aumentare o ridurre la velocità. Questo porterà automaticamente a una variazione della mia pressione. Benissimo, per cui che cosa succede? Il mio profilo aerodinamico è una struttura abbastanza particolare, nel senso che, come potete vedere, ha due profili diversi, a seconda che sia sul dorso della pala piuttosto che sul ventre della pala. Come potete vedere ci sono due diversi raggi di curvatura della mia pala, perché, ad esempio, la parte interna, il ventre della mia pala, ha un raggio di curvatura che adesso ho disegnato così con R. Ovviamente, lo potete vedere intuitivamente, il raggio di curvatura della parte esterna, del dorso della mia paletta, ovviamente ha un raggio di curvatura più grande. Quindi il raggio di curvatura della traiettoria, perché ovviamente io ipotizzo che la traiettoria di fluido che investe la pala segua il profilo della pala stessa. Quindi la parte di fluido che passa al di sopra della mia paletta avrà questa traiettoria. Poi ovviamente ho una parte di fluido che investirà la pala e passerà al di sotto. Per cui, chiaramente, le due traiettorie sono diverse, hanno raggi di curvatura diversi. Quindi che cosa comporta questo fatto che hanno raggi di curvatura diversi? Beh, sostanzialmente che avrò un gradiente di pressione diverso. Quindi se io vado a plottare l'andamento della pressione all'interno di una girante, di un turbocompressore, ottengo qualcosa di simile. Io adesso l'ho più o meno schematizzata, ma il concetto non cambia. Che cosa succede? Arriva il mio fluido, ok? Quindi in condizioni indisturbate, chiaramente, sono alla pressione di partenza. Non è cambiato niente, non sto scambiando lavoro, rimane tutto uguale. A questo punto che cosa succede? Il fluido, iniziamo a seguire, ad esempio, il profilo superiore, ok? Il fluido impatta contro il naso della mia paletta. Che cosa succede se il profilo impatta contro il naso della mia paletta? Succede sostanzialmente che localmente la corrente si arresta. Quindi in questo punto, ok, la velocità scende a zero. Che cosa succede se la velocità scende a zero? Beh, l'abbiamo visto qui. Se la velocità va a zero, la pressione schizzerà verso l'alto. E questo è il motivo per cui ho questo brusco picco in corrispondenza del naso. Perché? Perché localmente io ho arrestato la corrente, quindi ho tutta la quota di velocità che si converte in pressione. E poi a questo punto che cosa succede? Beh, io continuo, ok? E ovviamente il raggio di curvatura va via via diminuendo, finché ovviamente poi allo scarico devo arrivare necessariamente alla pressione finale, che è quella di lavoro. Quindi avrò un decremento della mia pressione e avrò appunto questo tipo di percorso sulla parte superiore della mia pala. Che cosa succede invece al fluido che impatta al di sotto della pala? Ma, allora, visto che impatta al di sotto della pala, potete già vedere qua la direzione, com'è, ma diciamo che viene deviata di meno, ok? Qui, come potevate notare, ok? Qui avevo una brusca variazione del raggio di curvatura, motivo per cui c'era un picco estremamente accentuato. Invece al di sotto, io è vero che ho sempre l'impatto, però vado anche, diciamo, a deviare meno la corrente e riduco la quota di velocità che viene convertita in pressione. Quindi io avrò sì un picco in corrispondenza del naso, ma non così accentuato come nel caso della pala del lato superiore. A questo punto che cosa succede? Qui, come potete vedere, ho un raggio di curvatura inferiore rispetto al profilo superiore, perché vedete, il raggio di curvatura del profilo della pala inferiore è più piccolo, potrebbe essere così, magari è un decimo di quello che c'è sulla parte superiore. Per cui che cosa succede? Visto che abbiamo detto che c'è questa relazione, io avrò un grossissimo gradiente di pressione. Perché? Perché il raggio a questo punto automaticamente è molto più piccolo. Se la velocità, sì, beh, Rho ovviamente rimane uguale. La velocità, diciamo che rimane più o meno uguale perché si deve conservare la portata, e ammettiamo che non sto cambiando drasticamente l'area di sezione. Ok, chiaramente se il Rho diventa molto molto più piccolo, perché qui ovviamente ho un raggio molto più piccolino, allora ho un gradiente di pressione molto elevato. Per questo motivo, a causa di questo gradiente di pressione molto elevato, ho un picco verso il basso della mia pressione. Quindi arrivo sostanzialmente in questa zona con un picco inferiore. Quindi in questo punto, nel punto a raggio di curvatura minimo, ovviamente mi ritrovo con la pressione minima. E poi ovviamente, visto che il fluido comunque deve arrivare, anche seguendo il profilo inferiore, deve arrivare alla pressione di uscita della mia pompa, ovviamente avrò un recupero e tornerà alla quota prestabilita. Poi ovviamente questo qui è il disegno di un compressore, quindi di una turbomacchina operatrice. Perché posso subito dire che ho una turbomacchina operatrice? Perché io parto da una pressione inferiore, che era P-in, e arrivo a una pressione superiore, che era il P-out. E quindi io sto facendo del lavoro sul mio liquido, cioè ne sto aumentando la pressione. Questa qui sicuramente non è una turbina. Se avesse una turbina avrei un grafico che sarebbe leggermente diverso. Ovviamente semplicemente guardando il profilo della mia pala non posso dire di che cosa si tratta, ma se avesse una turbina ovviamente partirei da un P-out e arriverei a un P-in che è più in basso, quindi partirei da qui e poi più o meno arriverei in questa zona. Ovviamente il profilo più o meno sarà uguale, nel senso avrò il P-out, avrò il mio picco, e poi scenderà così. Seguendo invece il profilo inferiore, ovviamente analogamente a quanto abbiamo visto prima avrò un picco un pochettino più moderato, poi scenderò e poi andrò a recuperare la mia pressione, che ovviamente deve rimanere uguale in uscita, sia che io ci arrivi in un modo, sia che io ci arrivi in un altro. Ora, qual è il problema di avere questo grandissimo gradiente di pressione, soprattutto nel caso del compressore. Nel caso della turbina è un fenomeno meno rilevante, perché io non devo recuperare un certo trend di crescita di pressione, anzi io vado proprio nella direzione contraria, quindi quando io sono al punto a pressione minima, io devo risalire di poco per arrivare alla pressione di uscita, per cui avrò un gradiente di pressione inferiore. Diciamo che il gradiente di pressione più accentuato lo ottengo proprio con i compressori. Ora, qual è il problema di avere quindi un gradiente di pressione che per un compressore potrebbe anche essere abbastanza elevato? Ma sostanzialmente il problema è il seguente. Se vi ricordate, la curva di transizione dell'acqua, di un liquido, è una cosa di questo tipo, quindi io adesso la sto disegnando nel diagramma TS, e io ho una curva del genere. Questa qui è chiaramente la curva di saturazione del nostro liquido, cioè di che cosa sto parlando? Sostanzialmente sapete tutti che ad esempio una sostanza si può presentare in tre fasi, quindi ad esempio facciamo una cosa del genere. Sapete tutti che qui ho ad esempio il mio gas, qui ho il liquido e qui ho il mio solido. Ok, ovviamente, vabbè, sugli assi trovo pressione e temperatura, quindi qui c'è la temperatura e qui invece ho la pressione. Bene, questo grafico sostanzialmente che cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che a seconda ad esempio della pressione, delle condizioni di pressione e temperatura, ok, a seconda di questo binomio, di quanto vale la pressione e di quanto vale la temperatura, io potrei trovarmi in una zona piuttosto che in un'altra. Per cui ad esempio questo di qui sarebbe il punto critico, no scusate, il punto critico, è il punto triplo questo, che si chiama punto triplo, perché si chiama punto triplo? perché nella stessa condizione di pressione e temperatura io ho la coesistenza di fase solida, fase liquida e fase gassosa. Il punto critico è questo di qui, punto critico, ok? Al di sopra del punto critico, quindi in questa zona, il mio liquido, il mio fluido, diciamo così, non si comporta né come gas né come liquido. Ho la condizione di fluido supercritico, ok? Quindi tendenzialmente poi si sta lontani dalla pressione critica, dalla temperatura critica. Comunque, dicevo, perché il gradiente di pressione è importante e bisogna tenerlo sotto controllo? Ma perché sostanzialmente, se io sono in una certa condizione, ad esempio ipotizziamo che io mi trovi come punto di funzionamento in questa zona, che cosa succede se io, anche mantenendo uguale la temperatura, riduco fortemente la pressione? Ad esempio a causa di un diverso raggio di curvatura che mi fa abbassare la pressione, che tendo a sconfinare nel gas. Quindi io rischio la formazione di bolle all'interno del mio liquido. Volendo vedere il grafico di transizione di fase in un diagramma TS, che qui ho disegnato, che cosa succede? Che io qui, ad esempio, ho la mia isobara, adesso ovviamente dovrebbe essere molto più attaccata alla campana, a un certo punto tocco la campana, qui ho coesistenza di vapore più liquido, qui ho solo liquido e qui invece ho tutto vapore. Che cosa succede? Io, se entro nella campana, per qualunque motivo, inizio a formare del vapore. Quindi che cosa succede? Io, ad esempio, nel momento in cui riduco la pressione, passo da un'isobara all'altra. E quindi che cosa succede? Se abbasso la pressione mi sposto in questa direzione. Quindi passo, ad esempio, da una pressione, qua non lo so, chiamiamo P1, passo a una pressione inferiore, che ad esempio chiamiamo P2. Ok? E che cosa succede? Il problema è che se io sono in un punto qui vicino, ok, e mi sposto in questa direzione, entro ad esempio nella campana, ok, che vede la transizione tra il vapore e il liquido. Ossia il mio liquido tende, inizia ad evaporare, quindi si forma qualche bollo, ok, quindi questo è il punto critico. Ok? Per cui che cosa devo fare? Devo stare attentissimo che la mia variazione di pressione, che qui possiamo vedere rappresentata da questa quantità, da questo segmento, ok, non scenda al di sotto della curva di saturazione e mi faccia comparire delle bolle. Perché? Se per caso si formano delle bolle all'interno della mia girante, beh, innanzitutto ho un problema, perché le mie pale sono fatte così e sono fatte per ospitare e per far passare il liquido. Nel momento in cui si forma una bolla, la bolla ha una densità molto, 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 molto più piccola rispetto al liquido, per cui nonostante la massa di vapore che si sta formando in piccolissime bollicine sia veramente irrilevante, anche se si forma veramente pochissimo vapore a livello massico, questo pochissimo vapore che si forma magari genera delle bolle enormi. Perché? Perché la densità è bassissima, quindi ha un volume specifico enorme. E quindi queste bolle che si formano e che ad esempio magari si attaccano alle pale vanno a influenzare il moto del mio fluido, ok? Che quindi ci sbatte contro e inizia a compromettere il triangolo di velocità. Quindi questo qui è un primo problema legato alla formazione di vapore. Ovviamente queste qui sono bolle di vapore, eh? Cioè è vapore dello stesso liquido che sta pompando la mia pompa, però visto che ho ridotto la pressione e sono entrato in campana, ho una transizione di fase, quindi parte e diventa vapore d'acqua, ad esempio se sto pompando acqua, e il resto rimarrà in fase liquida. Ok? Quindi, primo problema, questo. Vado a influenzare molto i triangoli di velocità. Il secondo problema legato alla cavitazione, che è un pochettino meno intuitivo, è il fatto che a un certo punto la pressione, come potete vedere, torna a salire. Quando la pressione torna a salire, io esco dalla campana, ok? Quindi in un certo istante, ok, tutte queste bolle spariscono, perché sostanzialmente collassano a causa della pressione più grande che si viene a formare, che le fa sostanzialmente implodere. Il problema qual è? Adesso non staremo a spiegare il perché e il per come, anche perché anche io francamente non lo so benissimo. Ma il problema qual è? Che quando la bolla implode, ok, sostanzialmente genera una pressione altissima che va a sbattere, vedete qui? Quando la bolla esplode, genera una pressione altissima che va a sbattere sulla mia superficie di metallo. Che cosa succede a questa? Che cosa provoca questa ondata di pressione che sbatte sulla mia superficie di metallo? Proprio i buchi che abbiamo visto. Può sembrare veramente una cosa ininfluente, una piccola bollicina di vapore che si va a formare, ma in realtà fa queste voragini qui enormi che ovviamente distruggono la mia macchina, perché se poi si stacca un pezzo di metallo, va in circolo, dove ovviamente ad esempio non dovrei avere metallo o chissà che cosa, succede il finimondo. Quindi la cavitazione è chiaramente un fenomeno da evitare che assolutamente può distruggere la mia macchina nella maniera più totale. Ok ragazzi, scusate, stavo guardando un attimino il video e mi sono accorto che ho detto più volte compressore. Allora, non è sbagliatissimo. Nel senso, siamo in idraulica, quindi il compressore è una pompa. Ok, quindi questa qui è una pompa. Non è un compressore. Quindi se ho detto compressore, scusatemi, è una pompa idraulica, non è un compressore. E una macchina termica, quindi che processa gas, non va in cavitazione, perché lavora già solo col gas. Quindi stiamo parlando di pompe oppure di turbine idrauliche. Comunque, vi ripeto, far cavitare una turbina idraulica è molto difficile, bisogna proprio impegnarci. mentre sulle pompe è abbastanza fattibile. Cioè, è un problema attuale. Bene, adesso cerchiamo di capire come si è cercato di risolvere il problema della cavitazione a livello numerico. Beh, diciamo subito che il punto in cui la mia macchina va a cavitare non è proprio scontatissimo. Perché? Perché io non so bene in quale zona andrò a raggiungere la pressione minima, quando poi... Beh, magari la pressione minima lo riesco a capire. Però qui è dove si forma la bolla. A me interessa più che altro quando va a implodere su se stessa, quindi sarà magari un pochettino dopo. Per cui non riesco a capire dove la bolla poi va a esplodere. Per cui diciamo che ci sarà un punto all'interno della mia girante, ovviamente tipicamente cavita sulla girante, che ad esempio chiamiamo un punto X. X perché? Perché se questa qui è l'ascissa curvilinea con cui stiamo analizzando la pala, che fa più o meno una cosa del genere, si troverà a un certo punto dell'ascissa curvilinea. Per questo motivo la chiamiamo X. A questo punto che cosa possiamo fare? Beh, facciamo il solito bilancio all'energia meccanica. Allora abbiamo L, meno ovviamente LV, che è il lavoro sprecato. Poi avremmo ovviamente meno Y, però Y è una perdita legata ai tubi, quindi poi sicuramente la andremo a trascurare. Poi avremmo la pressione in X, perché sto facendo il bilancio all'energia meccanica tra l'ingresso e il punto X, meno la pressione in ingresso fratto ρ, ovviamente ρ è costante, se no dovrei mettere l'integrale, più velocità in X al quadrato meno velocità in ingresso al quadrato fratto 2, più avrei ovviamente Z di X meno Z in ingresso. Ora, che cosa possiamo dire? Beh, ovviamente che la variazione di energia potenziale all'interno della macchina, che magari è grande poche decine di centimetri, si può certamente trascurare, ok? Non ci interessa. Poi ovviamente la perdita di carico all'interno dei tubi la trascuriamo, perché qui non sono nei tubi, non ho una perdita di carico Y, non ho semmai una perdita dovuta all'irriversibilità della mia macchina, quindi alla non idealità della macchina. Beh, a questo punto poi possiamo anche definire L meno LV, beh, diciamo che L ovviamente non è il lavoro totale, ok? Sarà il lavoro che è stato fatto fino al punto X, per cui sostanzialmente L meno LV è una piccola porzione della prevalenza della mia pompa, ok? Quindi sarà una frazione della prevalenza della mia pompa, non è la prevalenza totale. Ok? A questo punto, per non cavitare, e quindi se noi abbiamo detto che X è il punto a pressione inferiore, ok? Io devo garantire che la pressione che io ho in X, ok, chiaramente deve essere maggiore, o eventualmente uguale, ok? A che cosa? A la pressione di vapore saturo, ok? Cos'è la pressione di vapore saturo? È la pressione a cui io poi entro dentro la campana, ok? E quindi inizierei a formare del vapore. Benissimo. Poi teoricamente dovrei anche sommare più la pressione dei gas messi in soluzione, però la stragrande maggioranza dei casi, soprattutto per una prima approssimazione, la pressione dei gas disciolti all'interno del mio liquido si trascura, ok? Anche perché è molto meno rilevante rispetto alla pressione di vapore saturo, alle condizioni termodinamiche in cui mi sto trovando. Quindi a questo punto che cosa faccio? Prendo questo termine qui con un bell'uguale, ok? Perché sto lavorando al limite, quindi prendo il PX che abbiamo definito come PV più P sol, lo prendo e lo sostituisco all'interno del PX qui. A questo punto che cosa dico? Beh, abbiamo ovviamente qui, dicevo prima, è una porzione della prevalenza della mia pompa, quindi ci metto un coefficiente Epsilon che sarà una frazione della prevalenza totale. Quindi dicevo, prendo il PX, quindi esplicito tutta l'equazione, diventa una cosa di questo tipo, ok? A questo punto prendo la componente di VX, che è la velocità nel punto in cui la macchina potrebbe iniziare a cavitare e la sposto al membro di sinistra. E arrivo a una situazione di questo tipo. A questo punto cambio tutti i segni, tanto è legittimo, e mi rimane VX quadro fratto 2 meno una porzione della prevalenza totale della mia pompa. Ovviamente se ho cambiato i segni, qua mi rimarrà pressione in ingresso fratto la densità in ingresso, più velocità in ingresso al quadrato fratto 2 meno PV più P Sol fratto Rho. P Sol, ripeto, è la pressione dei gas disciolti all'interno del liquido. Spessissimo si può trascurare. Io comunque adesso la sto riportando, così magari in futuro avete la formula completa. Ok, a questo punto che cosa si fa? Si definiscono due nuove grandezze, che sono gli NPSH. Ossia questo termine che sta a sinistra dell'equazione si definisce come NPSH richiesto. Quindi questo termine di qui sarà, vabbè, G per questioni storiche, che adesso non sto a dirvi. Ok, sarà G, che è proprio l'accelerazione di gravità, per NPSH richiesto. Ok, NPSH sta per Net Positive Suction End. E mentre sul lato di destra, ok, abbiamo l'N... vabbè, abbiamo sempre G, ok, questo, ok, è G per NPSH disponibile, quindi, oppure diciamo quello del circuito, ok? Quindi a questo punto chiaramente la G si può anche semplificare, questo per arrivare poi alla formulazione finale. Quindi ovviamente se voglio semplificare, divido tutto per G, per cui qui rimarrebbe VX quadro fratto 2G meno Epsilon per una quota di prevalenza, e ovviamente HP si misura in metri, uguale, se divido tutto in G, mi rimane P pressione in ingresso fratto Rho G più velocità in ingresso al quadrato fratto 2G più, no, meno PV più P Sol fratto Rho G, ok? Quindi questo è giusto per avere esplicitato proprio i termini. Quindi qui questo qui è NPSH richiesto, ok? E mentre invece quest'altro, questo secondo termine, è l'NPSH disponibile. Ora, quando è che la mia pompa non cavita? Non cavita quando l'NPSH disponibile è maggiore, ok? Maggiore o al più uguale dell'NPSH richiesto. Ah, forse vabbè, adesso vi... forse dovevo riportare, quindi qui rimane con il segno così, poi avevo moltiplicato per meno, quindi qui cambia, diventa in questo modo, e quindi qui rimane così, ok. Bene, quindi la pompa non cavita se e solo se l'NPSH richiesto dalla pompa, che è un dato che mi dà il mio produttore della pompa, quindi io lo so quanto deve essere l'NPSH minimo fornito dal mio circuito, ok? Quindi non cavita se l'NPSH richiesto è più piccolo di quello che io riesco a dare alla mia pompa. Ora, cerchiamo di capire in che cosa si misura NPSH. Quindi, ad esempio, prendiamo il termine di velocità, chiaramente questa qui è una sommatoria, quindi so già che se ho fatto bene i calcoli, tutti questi termini si misurano con la stessa unità di misura. Allora, diciamo che sopra abbiamo una velocità, velocità su metri al secondo e elevata al quadrato, quindi sarebbe metri quadri al secondo quadro. Poi ovviamente ho fratto G, quindi vuol dire per secondi quadri fratto metri, esattamente. Quindi che cosa succede? I secondi quadri si semplificano con i secondi quadri, i metri si semplificano con l'esponente, quindi l'NPSH scopriamo che si misura anch'esso in metri esattamente come era per la nostra prevalenza. Ed è questo il motivo per cui spesso moltiplichiamo e dividiamo per G, perché storicamente si è fatto così. Oggigiorno non c'è nessun motivo per lavorare ad esempio con i metri e non con i joule al chilo, ok? Però storicamente si è sempre fatto con i metri, quindi io sto riportando la procedura classica di calcolo dell'NPSH. Bene, adesso proviamo a fare un piccolo esercizietto, un piccolo esempio, per capire cosa fare per evitare che la nostra pompa caviti. Allora, facciamo come al solito il nostro equilibrio all'energia, quindi scriviamo L, meno LV, che è il lavoro perso nella pompa, meno Y, uguale a che cosa? Beh, facciamo il bilancio tra 0 e 1, quindi allora diciamo pressione in 1, meno pressione in 0, fratto ρ, più velocità in 1 al quadrato, meno velocità in 0 al quadrato, fratto 2, più G per Z1, meno Z0. Ok, poi ovviamente noi vogliamo calcolare l'ingresso, le condizioni in ingresso della pompa, perché è l'NPSH che ha l'ingresso della pompa, per cui lavoro non ne abbiamo, lavoro perso quindi di conseguenza non ne abbiamo, ci rimane però la nostra Y, che sono le perdite di carico all'interno del tubo. Se non avessimo perdite di carico, semplificheremmo anche questo termine, però al più delle volte, nei casi reali ovviamente non possiamo trascurarle, quindi perdite di carico intendo dire quelle concentrate e intendo dire ovviamente anche quelle distribuite. A questo punto che cosa possiamo fare? Ma andiamo a spacchettare un po' i termini, Allora mi rimane meno Y uguale a P1 fratto Rho, meno P0 fratto Rho, più V1 quadro fratto 2, meno V0 quadro fratto 2, più G per Z1, meno Z0. Ok, a questo punto che cosa possiamo fare? Beh, prima abbiamo scritto la formula dell'NPSH disponibile del nostro impianto, e l'abbiamo definito come PIN, pressione in ingresso fratto Rho G, più velocità in ingresso al quadrato fratto 2G, meno, che cosa? PV, più eventualmente la pressione dei gas disciolti, il tutto fratto Rho per G. Quindi questo qui è l'NPSH disponibile. Bene, quindi a questo punto che cosa facciamo? Beh, ci rendiamo subito conto che qui ho un termine, che è PIN fratto Rho G, più VIN quadro fratto 2G, che sostanzialmente, altro non è che la pressione totale fratto Rho per G. Ok, quindi questa qui è la pressione totale. Un'altra cosa di cui ci possiamo rendere conto, tra l'altro in ingresso, ok, quindi sarebbe la pressione totale mantenendo la nomenclatura al punto 1, ok, quindi questo qui sarebbe P1 totale. Ok, la pressione totale l'abbiamo definita all'inizio della lezione, in questo modo, se vi ricordate. Qua, ve lo faccio rivedere. Quindi questa qui era la pressione totale. Ovviamente adesso ho fratto Rho G, quindi, perché il Rho è sparito, è sparito dalla velocità, è andato sotto la pressione, quindi è pressione totale fratto Rho fratto G. Quindi torniamo a noi. Quindi questa qui è la pressione totale in 1 fratto Rho G, e mi rendo conto che anche qui ho qualcosa di molto simile alla pressione totale, perché questo termine P1 più V1 quadro fratto 2 è proprio la pressione totale in 1. Allora che cosa faccio? Esplicito questa pressione totale e quindi mi viene che pressione totale in 1, pressione totale in 1, è anche uguale, ovviamente, a che cosa? Beh, abbiamo P0 fratto Rho, che è questo termine che porta a sinistra, poi abbiamo più V0 quadro fratto 2, e questa ovviamente è la pressione totale in 0, sempre con lo stesso concetto di prima. A questo punto abbiamo più G, adesso cambio nella parentesi, faccio Z0 meno Z1, per evitare di dover mettere un meno davanti a tutto. E a questo punto, ovviamente, mi rimangono anche le perdite, quindi sono meno Y. Quindi prendo questa pressione totale e la sposto all'interno dell'equazione dell'NPSH. Ecco, sì, scusate, attenzione, qui non è il Ptot, questo qui è Ptot fratto Rho, perché noi abbiamo definito Ptot uguale a P0 più Rho per V0 quadro fratto 2, quindi qui il Rho è al denominatore perché? Perché ho diviso tutto per Rho, quindi questo qui in realtà è Ptot su Rho. A questo punto mi rendo conto che il termine di partenza era Ptot su Rho per G, quindi devo dividere ulteriormente per G, quindi qui ci metto G, qui ci metto G, qui ci metto G, questa G sparisce, qua mi rimane Y fratto G. Sostituisco tutto e ovviamente mi diventerà P0 fratto Rho per G più V0 quadro fratto 2G meno Y perdita di carico nei tubi fratto G più Z0 meno Z1. E poi ovviamente ho il termine di pressione di vapore, quindi mi rimane meno PV più Psol, che spesso trascuriamo, continuo a ripeterlo, fratto Rho per G. Quindi questa di qui dovrebbe essere la formula dell'NPSH richiesto. Ok, l'ho controllata, è giusta. Attenzione anche a un'altra cosa, V0 ovviamente è nullo perché il bacino in partenza si considera in stato di quiete, quindi ovviamente V0 sarà 0. Quindi sostanzialmente se adesso voglio raccogliere ad esempio i termini delle pressioni, mi rimarrà P0 meno PV meno Psol fratto la densità per l'accelerazione di gravità meno le perdite di carico nei tubi fratto G più Z0 meno Z1. Questo di qui è proprio l'NPSH disponibile. Questa quantità qui abbiamo visto prima deve essere maggiore o uguale all'NPSH richiesto dalla pompa. Quindi richiesto dalla pompa. Per fortuna il valore richiesto dalla pompa non me ne devo preoccupare. Perché? Perché me lo dà il fornitore. Questo qui sarà un numero, abbiamo visto prima che è espresso in metri, ok? Me lo dà il fornitore della pompa e io dico, bom, prendo quello, me ne frego completamente. Se io sono un ingegnere impiantista devo solo badare a quello che capita prima e dopo della pompa, ok? Quindi questa parte di qui è di mia competenza, devo solo assicurarmi che sia maggiore di quello che mi dà il fornitore della mia pompa. Ora cerchiamo di capire come è possibile scongiurare la cavitazione. Beh, allora prima cosa, ovviamente ce ne rendiamo conto subito, se vogliamo avere una quantità più grande di quello che c'è a destra, ovviamente dobbiamo ridurre, ad esempio, le perdite di carico. Se questo termine non ci fosse, ovviamente rischieremmo di meno di cavitare all'interno del nostro rotore. Altra cosa che è possibile fare, ad esempio, vedete che qui, vabbè, purtroppo, la pressione dei gas disciolti non è che ci posso fare niente. Quella è, almeno che non faccio, ad esempio, un'operazione di degasaggio, però è una roba stramba, non ha senso farla più delle volte, ok? Quindi o faccio degasaggio e tolgo i gas disciolti, ma è difficile. La pressione di vapor saturo, in quelle condizioni terbondinabiche, purtroppo non dipende da me, questa qui è fissa, ovviamente ρ è costante, g è fisso, ok? Quindi una cosa che potrei fare, ad esempio, è pressurizzare il liquido in aspirazione. Questo lo posso fare se, ad esempio, il bacino è piccolo, ok? Ma se sto aspirando dal mare, io non posso pensare di metterci qui una cappa e pomparci dentro un gas per aumentare la pressione del mio liquido. Sarebbe impossibile da fare. Quindi, purtroppo, il più delle volte il P0 è fisso, perché dipende proprio dall'impianto. Cioè, se io sto aspirando da un bacino di montagna, non riesco ad aumentare il P0. Proprio non ce la faccio. Quindi, uno dei pochi termini su cui è possibile giocare è la differenza di quota. Attenzione, qui, se noi aumentiamo la differenza Z0-Z1, abbiamo una condizione più cautelata rispetto alla cavitazione. Per cui, se Z0-Z1 deve essere il più grande possibile, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che Z1 deve essere il più piccolo possibile, o comunque sicuramente deve essere più, magari deve essere anche più basso di Z0, ok? Quindi, io devo avere Z0 grande e Z1 piccolo, se voglio massimizzare questo termine. Che cosa vuol dire avere Z1 piccolo e Z0 grande? Ma potrebbe voler dire che io, ad esempio, la pompa, visto che Z0 deve essere grande e Z1 deve essere piccolo, e io Z0 lo calcolo, ad esempio, dal livello del mare. Quindi, ad esempio, potrebbe essere questa quantità, ok? Che cosa deve succedere se Z0 deve essere più grande e Z1 più piccolo? Ma potrei, ad esempio, montare la pompa sottobattente. Quindi, in questo caso, come potete vedere, la pompa aspira ed è posizionata sopra al bacino di aspirazione. Se volessi scongiurare condizioni di cavitazione, ad esempio, che cosa potrei fare? Questo qui è sempre il mio bacino. Abbiamo detto che Z0 deve essere più grande di Z1, possibilmente. Allora, cosa faccio? Metto la pompa sottoterra. Quindi faccio una cosa di questo tipo, qua avrò la mia pompa, e poi sarà compito suo fare quello che devi fare. E lo faccio, ok? Perché mi permette di salvare la pompa, altrimenti la rischio veramente di distruggere in poco tempo. Tra l'altro non abbiamo detto quali sono i sintomi della cavitazione. Cioè, abbiamo visto gli effetti della cavitazione. Ma i sintomi quali sono? Tendenzialmente vibrazioni, ok? E un rumore come se ci aveste buttato dentro della sabbia. Se vi andate a vedere su YouTube, sentite proprio un brutto suono che vi fa capire che qualcosa non sta funzionando. Come proprio se avesse buttato dentro una manciata di chiodi che stanno macinando le pale. Ok? Queste qui sono proprio le bolle. Quindi se iniziate a sentire una pompa che fa un rumore strano, è perché probabilmente sta cavitando, oppure magari sta aspirando della sabbia per qualche motivo strano. Niente, quindi, dicevamo, per scongiolare la cavitazione, ad esempio, metto la pompa sottobattente. Tra l'altro così favorisco anche il pescaggio del liquido d'albacino. Bene ragazzi, io spero di non avervi annoiato eccessivamente. Il fenomeno della cavitazione è molto importante e bisogna tenerlo sotto controllo, motivo per cui ho deciso di fare un video dedicato. Comunque, come potete vedere, abbiamo fatto le cose in maniera abbastanza, vabbè, non dico fatta male, però diciamo veloce, ok? Non mi sono soffermato sulla cavitazione, non sono andato a ricercare il perché e il per come di questa implosione qua. Le formule sono queste di qui che vi ho mostrato, ok? Agli ingegneri impiantisti, di solito, di come si trova l'NPSH richiesto non gli importa proprio niente, perché tanto la pompa se la comprano e il dato gli viene dato dal fornitore. Era giusto capire un po' come valutare invece l'NPSH disponibile, perché quello lì invece dipende proprio da come io vado a progettare il mio impianto. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Buona serata! Grazie!